Bonnelli si impegna attivamente da mesi per la questione Taranto. Nel tempo sta vedendo un cambiamento concreto di pensiero. Comunque le istituzioni e le forze preposte vogliono questo cambiamento. A me pare che ci sia un atteggiamento dilatorio, che non ci sia una volontà di individuare e di affrontare il vero problema. Qual è il vero problema? Capire se c'è un nesso di relazione tra l'alta mortalità, Taranto e l'inquinamento. E qual è lo strumento per capire questo? L'indagine epidemiologica. E allora è tutto chiaro. La ragione per cui oggi non si è fatta sino ad oggi l'indagine epidemiologica, che è uno strumento scientifico giuridicamente validato e che evidenzierebbe una volta realizzato il nesso di relazione. Allora qualcuno non vuole che ci sia e si dimostri il nesso di relazione? Ecco questa è la grande questione che deve essere affrontata, che non viene affrontata e fino ad oggi non è stata affrontata. Lei ha affermato che dobbiamo trovare un metodo. Qual è il metodo adesso? Il metodo è essenzialmente che si dica con chiarezza ai cittadini quello che si sta facendo. Non basta dire stiamo facendo questo, quel monitoraggio, tutte quelle cose. Il punto centrale oggi è se l'alta mortalità che si concentra a Taranto è riconducibile a livello di inquinamento. Noi pensiamo di sì, però dobbiamo sapere se la scienza, le ricerche scientifiche, per la dire indagine epidemiologica, confermano quello che noi sosteniamo e pensiamo e dubitiamo. Perché una volta realizzata l'indagine epidemiologica, quello sarebbe uno strumento molto importante in mano alla Procura e devo ricordare anche in mani cittadini che a quel punto potrebbero far valere i loro diritti anche risarcitori nei confronti di chi ha inquinato e di chi in quel caso ha provocato mortalità. Avete affermato che la Commissione Ecologia e Ambiente non esiste più e non funziona più. Adesso a Taranto a chi e a cosa dobbiamo appellarci per un controllo rigido sull'ambiente? Noi dobbiamo continuare a insistere perché gli organi preposti a partire dall'ARPA e dall'ASLA incentivano i controlli senza preavviso sia sulla diossina, sia sul benzopirene, sia sulla catena alimentare, sia sulla falda. Però diciamo, il disastro ambientale c'è. La Procura nell'incidente probatorio ha nominato dei periti proprio per attestare, per sondare lo stato dell'epidemiologia in relazione alla compromissione dell'ambiente. Ma se facciamo riferimento per esempio al piano delle bonifiche della Regione, già oggi possiamo dire che è individuato il responsabile EILVA in un inquinamento quasi irreversibile della falda. Quindi vuol dire che al disastro ambientale già ci siamo. Bisogna decidere se continuare a far finta di niente o se affermare il principio che in questo territorio vivono delle persone in grado di intendere e di volere dei cittadini che hanno dei doveri ma che hanno anche dei diritti e che da qui si parte e che questo è il primo punto. Grazie. Grazie.